Un pareggio tutto sommato equo fra Campobasso e Picerno, giocata di fronte a 2300 spettatori, gran primo tempo dei Rosso Blu, che poi accusano un calo forse anche fisiologico nella ripresa. Il Picerno, seguito da una trentina di tifossi, si prende un punto prezioso e torna in Basilicata. Cudini torna al 4-3-3 mutando vari interpreti in difesa, riecco Fabriani a centrocampo titolare Nacci. L'attacco, il reparto più modificato con Emmausso e Parigi, inizialmente in panchina Vitali e Rossetti. Dirige Scarpa di Collegno al quarto, carica il tiro Liguori, deve tuffarsi Viscovo per chiudere l'esordio. Rosso Blu è molto positivo, al dodicesimo la conclusione di Emmausso è respinta dal portiere Lucano. Campobasso avanti al sedicesimo, ottimo pallone lavorato e crossato da Liguori. Da destra è l'ex di turno, Manuel Ferrani a toccare la sfera e a beffare il suo collega portiere. Autogol del Picerno, campobasso 1-0, parziale certamente molto meritato. Nei minuti successivi non perviene la reazione ospite, almeno fino al 29esimo, quando Reginaldo nello stretto offre a Vivacqua che si ritaglia uno spazio. Prima di trovare Raccichini sul suo cammino, il portiere rinvia la sfera. E' sempre il campobasso a creare i pericoli maggiori. 34 minuti, scambio stretto fra Emmausso e Candellori che tira alto dopo deviazione avversaria. La squadra di casa gioca molto bene, al 41esimo tutto di prima. Il gioco fra Liguori e Candellori che si gira in un attimo e per poco non prende la porta. Ospite, due minuti di recupero al primo dei quali il destro di Finizio viene deviato in angolo da un calciatore rosso-blu. Il tecnico ospite Palo avvicendo all'intervallo Vivacqua per inserire Terranova. Reginaldo si posiziona a punta centrale e il Picerno passa al 4-4-2. Al quarto punizione di Guerra si tuffa a Reginaldo ma spedisce alto. Picerno più coraggioso al dodicesimo punizione di Pitarresi. La palla è toccata da Emmausso prima della parata di Raccichini e l'impatto della sfera contro la traversa. A seguire gli ospiti battono due calci d'angolo consecutivi in occasione del secondo. Ecco il pareggio Lucano. Batte Pitarresi, si fionda sul pallone Ferrani, la palla giunge a De Franco che effettua un assist aereo per il comodo appoggio in rete di Gerardi da due passi. Campobasso 1, Picerno 1. Cudini corre ai ripari, due cambi al ventesimo dentro Vitali è giunta al posto di Nacci e Liguori. Il copione vede il possesso dei Lucani che al ventunesimo ci riprovano con una sponda di Reginaldo per Terranova che conclude, si tuffa, Raccichini, palla fuori. Altro slot di Cudini al ventinovesimo. Staffette già previste dentro Rossetti per Parigi e pace per Vanzani. Il Campobasso si riversa in avanti prestandosi ai contropiedi avversari come quello del trentanovesimo quando Carrà corre velocissimo sulla destra e viene affrontato da Candelori in area di rigore per il signor Scarpa. E' tutto regolare, protesta il Picerno. Nell'occasione, un minuto più tardi, carica il destro Emmausso, prima deviato poi bloccato da Viscovo. Siamo nel finale, grossa opportunità per il rosso-blu al quarantaquattresimo quando Vitali è molto bravo nel servire un corridoio a Rossetti che entra in area di rigore ma trova la manona di Viscovo a negare il raddoppio. Prima del recupero entra De Biase al posto di Emmausso. Emmausso al secondo dei cinque minuti comandati. C'è un destro alto sopra la traversa dello stesso De Biase. Termina con un pareggio che dà seguito alla vittoria del Campobasso a Torre del Greco. Cudini esprime soddisfazione per il primo tempo di contro. Rammarico per la gestione di alcuni momenti della ripresa. Da martedì il Campobasso inizierà a preparare la trasferta di Messina.